Elettra Lamborghini e Ginevra Lamborghini in lacrime. La drammatica notizia sul fratello Ferruccio Lamborghini. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il rampollo meno noto ma altrettanto illustre della famiglia Lamborghini, Ferruccio Lamborghini Junior, ha attraversato un periodo difficile di salute, attirando l'attenzione dopo le recenti spettacolari nozze di sua sorella Elettra Lamborghini. A differenza di quest'ultima, famosa per il suo impegno nel glamour e nell'intrattenimento, Ferruccio Junior, ha sempre preferito mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. Pur portando con sé un'eredità prestigiosa, il nome del fondatore dell'azienda automobilistica di lusso. Dopo le festose celebrazioni per il matrimonio di Elettra, Ferruccio Lamborghini Junior è stato ricoverato in ospedale a causa di un serio problema di salute. La drammatica notizia ha spinto in lacrime le sorelle Elettra e Ginevra, che fin da subito si sono sincerate delle gravi condizioni del fratello. Il ricovero di Ferruccio infatti ha destato preoccupazione, in quanto è emerso che soffriva di un pneumotorace, una condizione che aveva sottovalutato, rassicurando però i fan che non era colpito dal Covid-19. Il pneumotorace, causato dall'eccesso d'aria nella cavità pleurica, può portare al collasso del polmone, ma fortunatamente Ferruccio ha confermato il recupero della capacità respiratoria, segnando un importante passo verso la guarigione. L'incidente ha suscitato preoccupazione anche tra i parenti. La famiglia Lamborghini, con il suo riconoscimento internazionale, ha affrontato il difficile momento con il sostegno di parenti e amici. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.